Tra un CDA e un bilancio approvato, il clima al Porta Elisa pare abbastanza sereno e fiducioso, anche se la salvezza non è affatto archiviata. Dica 33 per il medico del campionato, visto che si gioca la penultima stagionale, tutti in campo alle 15. Lucchese sfavorita dal calendario, visto che sul campo dell'Aquila si giocherà l'unico confronto diretto di giornata. Allenamento e partitella in famiglia allo stadio per i rossoneri. Nano Galderisi ha il solito ciuffo ribelle e sbarazzino, una gran voglia di chiudere al più presso il conto, senza dover attendere l'ultima in casa con la Carrarese. E' una settimana molto difficile, molto complicata, è la partita più tosta, ce l'abbiamo noi, su un campo dove nessuno si può permettere di perdere punti e neanche non presentarsi con il sangue agli occhi, perciò dobbiamo assolutamente non pensare a portare a casa il minimo, ma dobbiamo andare lì, cattivi anche noi decisi, come abbiamo preparato la settimana scorsa la partita col tutto poi. Fare risultato a Tommaso Fattori nel nido dell'Aquila vorrebbe dire tagliare il traguardo con 90 minuti d'anticipo, non ci dovrebbero invece essere dubbi sulla formazione che scenderà in campo al cospetto della compagine avruzzese, si va dritti verso la conferma dell'undici che ha battuto il tutto cuoio. Mingazzini continua a lavorare talvolta a parte, ma sarà della partita. Stagione finita invece per Maritato e Sartore, il primo tornerà al Vicenza, mentre sullo sgusciante brasiliano si punterà anche il prossimo anno, sperando che gli infortuni lo lasciano finalmente in pace.